Caldo torrido e clima incandescente anche per chi pensa di partire per le vacanze utilizzando l'aereo. La gran parte degli scali italiani ma anche europei è in subbuglio per le conseguenze della tempesta perfetta che vede coincidere nelle mese delle vacanze una serie di nodi che vengono al pettine. La ripresa del turismo mondiale ha numeri altissimi ma gli stipendi del personale sono gli stessi e l'infrazione galoppa. Inoltre l'assunzione tardiva del personale stagionale, la carenza di personale generalmente e l'aumento del prezzo del carburante ed anche il covid che colpisce anche ad alta quota hanno interferito con la programmazione dei voli ed infine anche un'ondata di scioperi che attraversa tutta Europa. Così chi viaggia rischia di pagare un prezzo salatissimo per il volo senza nemmeno la garanzia di arrivare a destinazione. I dati del nord-est non sono noti. Ci si basa su quelli di giugno, 41.000 voli cancellati in Europa e su quelli lombardi. Lo scalo di Orio al serio ha cancellato in una settimana 46 voli. Una situazione grave ma non ancora insostenibile. Molte compagnie riescono a riprogrammare i voli ma i disagi e il malumore tra i viaggiatori crescono. Il peggio però sembra ancora alle porte. La situazione grave riguarda la nuova ondata di scioperi annunciati dalla compagnia più gettonate per i voli low cost, EasyJet e soprattutto Ryanair, che hanno già annunciato un nuovo stop dei voli il prossimo 17 luglio in Italia mentre in Spagna sono previsti scioperi intermittenza fino al 31 di luglio. British Airways ha invece dichiarato di voler eliminare 10.300 voli già programmati tra agosto e ottobre cercando di salvare le settimane più affollate per le vacanze. Il ministro dei Trasporti italiano Enrico Giovannini, interpellato sul tema, ha dato a tutti un consiglio. Quello di viaggiare con il bagaglio a mano per evitare code o addirittura la mancata consegna delle valigie per le agitazioni del personale. Priva di partire è quindi doveroso controllare con la propria compagnia lo stato del proprio volo per evitare di passare le vacanze in aeroporto.